Una nocera inferiore più protetta sotto l'aspetto sanitario, novità per l'ospedale Umberto I e per alcuni luoghi pubblici della città che diventeranno cardioprotetti così da poter farsi trovare pronti in caso di evenienza rispetto al rischio di malori improvvisi. Ma andiamo con ordine. È in arrivo un nuovo medico, il nosocomio di Viale San Francesco dal 2 maggio prenderà servizio con un contratto professionale, dando manforte all'equipe già esistente nel punto di primo soccorso che ne ha sempre bisogno dell'Umberto I, in attesa però che vengano assunti poi altri cinque medici che giungeranno in ospedale grazie al concorso regionale tenutosi nelle scorse ore. Insomma si cerca di porre rimedio a quelle che sono le problematiche di sempre della carenza d'organico di alcuni reparti dell'Umberto I, in particolare il pronto soccorso sempre nell'occhio del ciclone, spesso sulle prime pagine delle testate giornalistiche per tali episodi e anche qualcuno di cronaca. Con l'arrivo dei nuovi medici dovrebbe esserci un netto miglioramento. Ma il sindaco di Nocere Inferiore Paolo De Maio ha annunciato importanti novità anche sull'aspetto della prevenzione. Infatti tra farmacie e altri luoghi pubblici della città già individuati ci sarà la presenza di defibrillatori, sperando ovviamente di non averne mai la necessità di doverli utilizzare. Il primo cittadino ha anche annunciato che ci saranno appuntamenti per i suoi cittadini concorsi gratuiti BLSD, Basic Life Support Defibrillation, cioè per sapere cosa fare, come intervenire con il defibrillatore se un soggetto viene colpito da arresto cardiaco improvviso. presenteremo settimana prossima il Nocera Cardioprotetta che era un progetto che avevamo presentato con la prostata amministrazione, con il gruppo consigliare di cui mi facevo parte, con il dottore Stile che era il Presidente della Commissione Sanità. Nocera Cardioprotetta cosa significa? che presenteremo la settimana prossima. Abbiamo effettuato una ricognizione dei defibrillatori in città e in più abbiamo acquistato altri quattro defibrillatori attraverso i servizi sociali che andranno a completare l'installazione di queste strutture nei luoghi più sensibili e negli uffici pubblici. Fatta una verifica anche chiaramente presso le scuole che ovviamente per legge sono tutte dotate. Presenteremo questo progetto che avrà una mappatura dei defibrillatori in città, introdurremo questo corso che consentirà ai cittadini di imparare a usarlo con delle cadenze temporali, convolgeremo le farmacie così come è venuto fuori anche in Commissione Sanità dove abbiamo presentato questo progetto che abbiamo approvato in giunto e che presenteremo la settimana prossima la città, convolgeremo le farmacie per dotare la città di ulteriori defibrillatori, lo inseriremo nella app del Comune di Neucia Inferiore in modo da il cittadino potrà verificare il defibrillatore più vicino al luogo in cui è presente in modo da monitorarlo e quindi cerchiamo anche in quel senso di dare una risposta alla città. Grazie. 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 Grazie.